seconda toyota chr della giornata come detto prima nel video precedente dell'altra chr accensioni luce spengimento a secondo di quando accendiamo le luci diminuisce il display l'entità della visualizzazione si accendono le luci laterali gestione usb audio e video sia originale che una nel porto oggetti questa serve per richiamare le app aperte in questo caso per dire youtube e maps scusate oppure la possiamo usare per rendere il tablet e veloce chiudiamo tutte le app via voce bluetooth streaming musicale dsp maps l'abbiamo visto prima buongiorno e benvenuti a tutti la storia del calcio pullula di fatti insoliti la fase del calcio di rigore o più comunemente penalty e peraltro piena di eventi divertenti a volte succede che i giocatori commettono errori o vogliono come i cambi buongiorno e benvenuti a tutti quando si sente la parola spiaggia si pensa per forza alla stagione estiva alla sabbia fine al sole che ci abbronza la pelle ai cocchi che ballano con il vento e a quelle onde che ve impostazioni impostazioni ecco qui come camminiamo entra in ricarica retrocamera pressione pneumatici infocarburante tempo viaggio chilometraggio e poi possiamo dividere lo schermo in questo caso metto play store per tornare in visualizzazione singola basta fare così queste sono tutte le le app del car tablet come vedete impostazioni wifi molto semplice da usare lingua backup informazioni del tablet un px 6 android 9 4 giga di ram rom 64 giga